Ciao ragazzi, ciao ragazzi, postazione un po' diversa dal solito, sempre se riesco a far stare in piedi il telefono Video girato col telefono perché la Canon 600D è a riparare, a riparare, sì, 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 sì Beh, comunque, questo video lo dedico tutto ai videogiochi Allora, sono usciti due videogiochi famosissimi, il seguito di due videogiochi famosissimi Che sono Butterfield e Modern Warfare Allora, il discorso qual è? Questo video più che altro vuole andare a parare su un argomento ben preciso Che sono i contenuti scaricabili, quelli opzionali, i DLC Cos'è che voglio dire a riguardo? Si è creato ultimamente una specie, non so se l'avete notato, una specie di circolo vizioso Per il quale mi conviene, a me, casa produttrice, fare il gioco con delle determinate cose mancanti In modo da guadagnarci parecchio di più sui contenuti scaricabili Che sono ormai parte integrante della storia, piuttosto che del gameplay multiplayer Appunto, in modo da guadagnarsi spudoratamente Quindi vengono tagliate fuori proprio delle possibilità per quanto riguarda il multiplayer E delle possibilità per quanto riguarda la campagna Di andare avanti bene e essere ben soddisfatti dal proprio videogioco Il discorso qual è? Ogni casa adotta comunque la sua politica e nessuno dice nulla Però diciamo che la presa per il culo È una linea sottile quella che c'è fra il fare e la genialata E la presa per il culo verso il cliente La presa per il culo qui, secondo me, qual è? È quella appunto di creare disagio da parte di alcuni giocatori Quindi in questo caso prendo come esempio Modern Warfare 3 C'è del disagio da parte di alcuni cecchini, la maggior parte E non mi riferisco a quelli che fanno quickscope Non perché non lo ritengo sia cecchinare Ma perché mi riferisco all'altra parte Neanche camper Però il classico cecchino Ecco, a chi ama giocare a Modern Warfare in generale Modern Warfare 1, il 2, come cecchino Qui si troverà molto male Perché in Modern Warfare 3 la maggior parte delle mappe Su 16 mappe che abbiamo La maggior parte sono molto claustrofobiche Abbastanza chiusi, vicoletti, eccetera Chiaramente se uno è bravo come cecchino Se la porta a casa, nel senso che se la porta a casa la partita Però credo di non dire un'eresia quando dico che questo Modern Warfare in particolare È quello meno adatto all'essere cecchino Insomma, allo stile di gioco del cecchino Quindi cos'è stato fatto secondo me? L'hanno pensata questa cosa Perché fare un pack di mappe Che secondo un video Che a quanto pare è attendibile In uscita a pochi mesi dal videogioco E mi riferisco a gennaio Cioè uscirà fra poco A due mesi d'uscita, tre mesi dall'uscita di Modern Warfare 3 Con dentro delle mappe di Modern Warfare 2 e di Modern Warfare 1 È secondo me scorretto Perché le mappe che hanno preso Guarda caso Sono mappe molto larghe Tranne Shipment forse Del 4, di Call of Duty 4 Ovvero Modern Warfare 1 Che comunque è una piccola rust se vogliamo No, il discorso è che Hanno incluso mappe come Terminal Come Favela Che sono mappe comunque dove un cecchino si può divertire parecchio anche E la cosa non è che mi dà fastidio Mi dà fastidio il fatto che lo rendano a pagamento E quindi facciano pagare un gioco Con relativamente poche innovazioni Perché, ripeto Mentre Battlefield ha offerto una grafica mai vista Mai vista Per la sua saga E ha offerto un gameplay rinnovato Eccetera Modern Warfare 3 ha messo dentro Due o tre cazzatine nuove Qualche supportino in più Sì, ok Però non è Non giustifica i 59 euro Cazzo, Battlefield costa 10 ore in meno E c'è stato più sviluppo dietro Nonostante i 10 euro in meno che chiedono Quindi il mio discorso è Ci stanno prendendo per il culo O no? Secondo voi? Perché Io personalmente Probabilmente i pack li prenderò lo stesso Perché Mi piacciono quelle Mi piacciono quelle mappe Perché mi sono divertito tanto a giocarle in Modern Warfare 2 E la possibilità di avere il gameplay del 3 Con le mappe del 2 È allettante Però Appunto L'impressione è semplicemente Che loro ci stiano marciando Veramente tanto sopra Mi interessava sapere appunto Voi cosa ne pensate Secondo voi DLC Sono Sempre un male Lo sono solo alcune volte Se sì In che caso Oppure Sono un bene Fanno bene a farci pagare Così tanto per Delle mappe Per esempio In questo caso Che sono lì Già fatte Riadatti 2 o 3 texture E bene o male Te la porti a casa Non c'è dietro Sto gran sviluppo Fatemi sapere Che cosa ne pensate Se l'argomento vi è piaciuto Cliccate mi piace Se Conoscete qualcuno Che poi sia interessato All'argomento Non dovete far altro Che condividere Questo video Mi fate un favore a me Fate un favore al vostro amico Vi prendete degli insulti Perché gli riempite la bacheca di spam Ma è la cosa giusta da fare Io ve lo dico È la cosa giusta da fare Davvero Ah e twittatelo anche in giro Se avete Twitter A proposito Vi ricordo Che io sono sia su Facebook Come TheLollers Che su Twitter Sempre come TheLollers Detto questo Vi saluto Un saluto ai soldati Dall'arrocarmi Ciao E al prossimo video Ciao